La lettera aperta che dieci giorni fa ben quattro organizzazioni immessi in esi attive nel settore dell'antimafia sociale del contrasto e fenomeni di pizzo e usura in riferimento all'approvazione del regolamento per l'attuazione di politiche antimafia, misure di contrasto alla corruzione, il gioco d'azzardo, a racket e al sostegno alle imprese che denunciano, non può restare inosservato e non essere presa in debita considerazione dalle istituzioni comunali chiamate a portare a conclusione un iter amministrativo rivelatosi fin troppo lungo, nonostante sia volto all'ottenimento di un risultato molto importante e significativo per l'intera comunità messinese. La pensa così il capogruppo alla terza circoscrizione di articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, Santi Interdonato, insieme ai consiglieri Antonino Sciutteri e Andrea Leotta. Il presidio di Libera Messina, Nino Ida Agostino, il comitato di Opizzo, Messina Ollus, il Movimento Agende Rosse di Messina, Gruppo Graziella Campagna, la Fondazione Antiosura, Padre Pino Puglisi, hanno rilevato come la proposta di regolamento adottata nella giunta municipale munita dai pareri tecnici favorevoli degli uffici competenti sia stata trasmessa al Consiglio Comunale a poche settimane dallo svolgimento della ventunesima giornata della memoria dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti delle mafia che si è svolta a Messina il 21 marzo 2016. Il 20 marzo di quest'anno la proposta di regolamento è stata finalmente trasmessa anche alle sei circoscrizioni e il Consiglio della terza circoscrizione ha esitato parere favorevole. Nel corso di questi anni il nostro orientamento non è cambiato, rileva il capogruppo interdonato e trova conferma del parere favorevole con cui si vuole che misure concrete in chiave antimafia siano adottate nell'ambito delle procedure amministrative della macchina comunale per ridare efficacia concreta a principi di legalità pienamente condivisi. I consiglieri di articolo 1 concludono sollecitando le altre circoscrizioni ad esprimere tempestivamente il proprio parere di competenza per velocizzare l'iter amministrativo.